Musica Non ci avrei mai creduto di questa storia Correvo, correvo, correvo per scappare a queste menzogne Non importa quanto Gatorade potevo bere Sembrava assurdo, però la cosa era vera Era vera, la cosa era vera E allora, allora Avevo spiegato che con gli sviluppatori di Team Fortress 2 Non potevamo più avere fiducia E guarda cosa ha fatto la community Cosa sta creando Team Fortress 2 su Source 2 Che cosa avevo detto di fidarsi di loro Che cazzo avevo detto Cosa avevo detto Porca di quella troia Ovviamente questo video è in collaborazione con la squadra della Fortezza Sotto ragazzi metto i link in descrizione del server Discord E anche quello del loro canale YouTube Però adesso vi ho dato soltanto la notizia Di ovviamente di Team Fortress 2 e Source 2 Per le spiegazioni di questo progetto Do la parola ad Arcus Sì per la mia parte devo ancora prepararmi Mi devo depilare le gambe, ok? A te la linea Arcus Salve, sono Arcus Mercenary Il founder del server Squadra Fortezza E vi spiegherò Vedendo la parte dei creatori originali Del progetto Team Fortress Source 2 Implicandovi come se fossi io il creatore Cos'è il progetto per loro Iniziamo La prima cosa che si pensa Quando si parla di TF2 Sono le classi e le armi Parliamo dello spara tutto a classi In fin dei conti Quindi abbiamo pensato Ad una sorta di reintroduzione Delle classi di TF2 Ed appunto dalle suddette classi Vorremmo iniziare Ma come possiamo farlo? Di base tutte le proprietà del gioco Sono programmate all'interno del gioco stesso Tuttavia vogliamo dare ai giocatori La possibilità di dividersi Dalle nostre modalità di gioco E aggiungere qualsivoglia classe O arma nel gioco E giocarci A questo punto Il Custom Asset System Mostra i muscoli Oltre a permettere l'utilizzo Di qualsiasi tipo di asset predefinito Grazie agli strumenti dati Dal Source 2 Come suoni Modelli Materiali Ed altro S&Box Inoltre permetterà La creazione di types E di lavorarci direttamente Nel codice Questo è ciò che abbiamo fatto Per creare una nuova classe Si dovrà creare Un nuovo file Chiamato Classname.tfclass Il suddetto file Considirà l'apertura di un tool Di S&Box Chiamato Ispettore O Ispectator Che fondamentalmente Considirà di specificare Le proprie proprietà della classe Quali nome Modello del giocatore E delle armi Salute Velocità E all'occorrenza Una buona interfaccia E a carica Informazione del gioco In operazione con il Source 1 In modo da definire Tutte le proprietà Del codice di gioco Ora Io ho spiegato Il progetto Come loro Veloc Vorrebbero far spiegare Ma adesso Passerò la parola Ai protagonisti principali Del video Che vi spiegheranno Più nel dettaglio Le sfaccettature Di questo progetto Passo La parola a Pixel Che vi spiegherà Il lato tecnico Prima di iniziare A sproloquiare Mi introduco Io sono il Pixelazzo Un nome di cui farete Bene ad aver paura Cazzate a parte Quando io ho iniziato Ad informarmi Di questo progetto Ho pensato Ok Carino Vediamo un po' Come si evolveranno Le cose Passero i giorni Ed un sacco di youtubers Sia americani Che stranieri Iniziano a parlarne Ma ora possiamo iniziare Veramente Dunque Il 7 agosto del 2021 Ampere Software H I creatori Di Creators 1 TF Danno inizio Al cosiddetto Team Fortress Source 2 Un nome attualmente Provvisorio Usando come base S e box Della face punch H Una versione pesantemente Modificata Del source engine In modo da creare Giochi e mod Senza il VR Come prima cosa Iniziano a mostrare Le capacità Datagli Dalle tools Dell'engine Come ad esempio I particellari L'hammer 2 Rifatto Completamente Da zero Il blend space Poi abbiamo anche Il rock and jump E soprattutto Dei risultati Ottenuti con il material editor Delle source 2 Facendo risultare Textual Delle armi Molto più dettagliate Per lo forte Comunque sia Arriva Con lo showcase Delle armi Hanno mostrato Dei video In cui Hanno rifatto Le prime classi Completamente da zero Come lo scout Il padre Il soldato Il demonitore Il cecchino Adesso voi vi dite Pixel Ma dove stanno Le altre 4 classi Quelle sono In lavorazione Ad esempio Come l'ingegnere E qui faremo La felicità Di gnotost Mamma Mamma E una moneta Dai che ci pensa Alex A risolvervi Il morale In realtà Pixel Più che tirar su Il morale Penso che potrò Aumentare anche Le preoccupazioni Perché lo sapete Che sono veramente Una persona simpatica Ora tutti quanti Volete essere Contenti Soddisfatti Che finalmente Grazie A Source 2 Potremmo avere Quel grandissimo Sogno Di zero glitch Zero bug Mai più hacker Perché alla fine Vogliono proprio Implementare Il Team Contress 2 Dentro a questo gioco Team Contress 2 Sapete che avevo Già parlato Circa un anno fa O se non ve lo ricordate Ve lo andate a rivedere Però Ecco C'è sta il però Ma proprio un però Gigantesco così Non sarà Tutto completo Perché sapete Il gioco Non è Della Valve È di tipo È un Fan game Possiamo definirlo così Fan game Non è ufficiale Quindi questo Comporterà Che L'inventario Quello che avete Vostro di Team Fortress 2 Normale Su Steam Non sarà Implementato Qui dentro Quindi Armi strane Armi australium Cosmetici Taunt Tutto questo Tutto questo Non verrà Implementato Cioè 1000 euro Di inventario Però non si potrà Mai usare qui E oltre all'inventario Anche la questione Di guadagno Perché ho già detto Che non ci sono le armi australium E questo compromette Che anche La modalità MVM Ci sarà Però Non si potranno fare Gli acquisti Con i biglietti E cercare di ottenere Le armi australium Oltretutto Parlando sempre Di armi Le armi Quelle normali Non quelle di base Ma proprio Insomma Le altre armi Che si possono aggiungere Nemmeno quelle Verranno messe Se ho capito bene Verranno soltanto messe Quelle che si possono Vincere Tramite archiment Ma per il resto Verrà tolto Quindi se qualcuno Si era sempre Allenato Si era abituato A usare che so Il demonite Non ci potranno essere Gli scudi E anche le spade Quindi Come ho già spiegato Il gioco Sarebbe Incompetito In certi casi Perché si Per alcuni Sarà semplice Se qualcuno Ci avrà giocato Si e no Una ventina di ore Al normale TF E sostituirlo Con questo qui Sarebbe facile Ma per quelli Che ci avranno fatto 2000 ore E ci hanno nerdato Tantissimo È un po' difficile Cioè La soddisfazione Sta proprio Che non ci sono Glitch Bug E neanche i cheater Ma rimane sempre Quella questione Che Essendo che non è ufficiale Può dare Una grossa Scomodità Per questioni Di inventario E per questione Di adattamento Di armi Che non ci saranno Implementati nel gioco Però questo verrà deciso Nel tempo Non so in quale altro modo Possono essere implementati Però c'è da dire questo La costruzione L'ideologia E anche il modo Di come si stanno Prendendo cura Di questo progetto Di renderlo Di renderlo Di renderlo un gioco pulito È abbastanza soddisfacente Quindi adesso Possiamo proprio dire Ufficialmente Che Team Fortress 2 Source 2 Può essere Un rimpiazzamento Del TF normale Mica tanto Ancora no Possiamo definirlo Un'alternativa Al normale TF Ma purtroppo Per chi ci campa Ancora con questo gioco O che ci fa gli affari Con le collestioni Di MVM O per chi sta facendo Ancora I tornei competitivi Che utilizzano le armi Quelle Insomma Implementate nel gioco O anche l'intera fatica Per chi ha nerdato Per rendere ricco Il proprio inventario Rimane ancora Un grosso problema Non è ancora Un gioco Completo Però Sta andando Su una buona strada E onestamente Sono fiducioso Bene ragazzi E anche per oggi è tutto Ringrazio squadra della fortezza Principalmente Arcus e Pixel Per avermi aiutato A realizzare questo video Sotto ovviamente Metterò il link In descrizione Ovviamente del loro canale Youtube Discord Anche del sito Di Team Fortress 2 Source 2 Anche dei miei social Che vi raccomando Seguitemi anche lì E noi come sempre Ci vediamo In un prossimo video Con una prossima collaborazione Con la squadra della fortezza Ciao ragazzi Una piccola curiosità Ho sentito dire Che qualcuno Stava anche creando CSGO Su Source 2 No 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 Non voglio che quel gioco Viene fatto su Source 2 Io vorrei proprio Che venga eliminato Ciao 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 Grazie a tutti.